Sapete cos'è un paradosso? Io ne ho imparati alcuni al liceo classico, ai tempi probabilmente dei dinosauri. Allora oggi vi racconto questo paradosso. Dovete fare un lavoro molto importante che spetta proprio a voi e siete sicuri di doverlo fare voi, ma quando arrivate sul posto per svolgere il vostro lavoro, la persona per cui dovete svolgere il lavoro vi palesa serenamente che la cosa più importante della sua vita è non aver bisogno del vostro lavoro. A quel punto vi trovate di fronte a un paradosso, però voi sapete che è importante fare quel lavoro, però oh mamma mia che casino. Sì stiamo parlando di adolescenti e di come fare a parlare con i nostri figli adolescenti che sembrano non esprimere il bisogno di parlare con noi. Ve lo dico tra poco nel video o nel podcast di questo lunedì. Cominciamo! Questo argomento ha grandissima richiesta e l'argomento che riguarda come parlare con i nostri figli e ragazzi e ragazze adolescenti. Allora alcune cose possono servire anche a chi ha bambini più piccoli, a parte per la prospettiva perché non sapete cosa vi aspetta. No sto scherzando dai, io ho un figlio di 15 anni e uno di 11, ma vi posso dire che ho passato dei momenti più difficili quando erano piccoli rispetto ad ora, quindi si può fare come dice un noto film. Può servire quindi a genitori di bambini anche più piccoli non solo per la loro prospettiva, ma anche perché alcune modalità già si riscontrano i bambini molto piccoli. Mi viene molto spesso detto ma si comporta come se fosse già adolescente. Ok, allora vediamo quali modi di comunicare possono favorire un'apertura verso l'adolescente. La prima cosa che vi voglio dire è che poi è la prima, la seconda, l'ultima, cioè praticamente apre e chiude questo cerchio è che dipende dall'obiettivo. Questa ragazzi e ragazze è una domanda chiave che dovremmo imparare. Io cerco veramente di farla in continuo quando preparo il video, ma così come quando parlo con i miei figli. La domanda chiave è qual è l'obiettivo? Qual è il mio obiettivo? Ok, perché c'è un conflitto di base. Quello che vi dicevo all'inizio, noi abbiamo ancora bisogno e ci teniamo che i nostri figli abbiano bisogno di noi per poterli guidare naturalmente perché ci sentiamo una forte responsabilità, ma la sfida dell'adolescenza è dimostrare di non aver bisogno di noi. Capite che questo ci predispone a un conflitto sicuro se noi ovviamente non giochiamo un po' d'astuzia. È quello che adesso vi racconterò. Quindi se noi entriamo in modalità sfida, attacco-fuga, rango, quindi vogliamo, il nostro obiettivo è solo dimostrare che siamo più forti, che abbiamo il potere, lo scettro del potere, questa cosa porterà a dei conflitti, oppure anche magari non dei conflitti, ma a un senso sotterraneo di relazione che non va bene, non quadra. D'altra parte il nostro compito in età adolescenziale è anche mettere dei confini rispetto a delle condotte, delle cose che pensiamo pericolose e quindi anche prenderci un po' di proteste. Questa è una cosa che a volte già quando i bambini sono piccoli facciamo fatica a fare, cioè siamo convinti di agire per il bene, ma poi quando nostro figlio protesta ci agitiamo, andiamo in tilt. Gran parte della vita di un genitore, con un bambino piccolo per un verso e con un adolescente per un altro verso è reggere, ripetiamocelo, reggere, tenere botta, sapere che quella fase evolutiva prevede un po' di contestazione, una sfida, il fatto di voler pensare con la propria testa perché è quella la fase in cui ci si deve sganciare e tra l'altro è sempre più difficile sganciarsi perché i ragazzi adesso hanno la possibilità di fare tantissime cose, molte di più di quelle che potevamo fare noi e quindi fanno anche fatica perché non possono neanche passare dalla ribellione che era. I miei mi hanno detto che non posso ma lo faccio lo stesso perché veramente possono fare veramente tantissime cose. Quindi molto spesso in realtà lo sgancio passa da una sorta di delusione. Quindi noi avevamo la ribellione e loro hanno la delusione cioè questo bambino che no il cocco di mamma e di papà idolatrato portato in palmo di mano e che ci dava tante soddisfazioni perché riuscivamo anche a direzionarlo magari come volevamo noi adesso vuole fare delle cose per conto suo e la cosa non sempre ci fa star bene. È normale, succede. Allora qua torniamo a qual è l'obiettivo? Io sto veramente, cioè quando dico non riesco a parlare con un adolescente sì ma perché? Io voglio parlare per infilargli nella testa il mio pensiero e far sì che faccia quello che voglio io oppure sono realmente interessata ad ascoltarlo? Perché guardate quando noi li ascoltiamo veramente loro parlano e parlano pure tanto e schiudono dei mondi. Questo che cosa significa? Non educarli Silvia? Cioè non dargli dei confini? Naturalmente no, però c'è modo è modo. Cioè il succo, il fulcro che vi vorrei trasmettere è che noi siamo abituati a gestire i figli quando sono piccoli. A dirgli qua, cioè gli facciamo il bagnetto quando pensiamo noi, li diamo da mangiare quando vogliamo noi. Questa cosa man mano che crescono diventa impensabile perché l'adolescente vuole, desidera e gli serve per la sua crescita avere degli spazi di autodeterminazione. Per cui se noi continuiamo a voler esercitare il controllo come prima con cose che io sento spesso, no? Non chiuderti la porta di camera tua, se sei in macchina non ti mettere le cuffie, tutta una serie di cose che però vanno contro il desiderio dell'adolescente di stare nella sua bolla, magari con i suoi coetanei che sono in quel momento il punto di riferimento, ma non vi preoccupate, torneranno dai genitori e invece lì è il nostro bisogno e non il loro. Quindi chiediamoci perché voglio affrontare questo discorso? È una mia esigenza di controllo, di inculcargli delle cose, di farlo andare secondo un mio binario oppure voglio veramente ascoltare? Questo presuppone il fatto di non educarli? Assolutamente no, perché noi possiamo mettere dei confini se lo decidiamo, se lo riteniamo necessario, possiamo non accettare dei comportamenti, tipica è la cosa del fatto che l'adolescente magari urla o ci tratta male. Allora lì occhio ragazzi e ragazze, perché se reagiamo, quello è un altro angolo del genitore, se reagisco e sono piccato e alzo la voce più di te, sto reagendo alla sollecitazione di rango. Cioè intanto sto dimostrando che ho un po' paura di essere prevaricato, cosa che mi fa perdere, mi indebolisce di rango. Ricordatevi che lo status ogni volta che noi lo affermiamo in realtà stiamo palesando di non averlo, perché quando ce l'abbiamo non abbiamo nessun bisogno di affermarlo, siamo tranquilli, sereni e pacifici. Quindi se noi ci facciamo pescare dall'adolescente che ci provoca ed entriamo in simmetria, quindi urlo anch'io, urlo più di te, ti dico che è... e ti faccio magari la predica, il pippozzo, la cosa dei massimi sistemi che chiude, chiude la comunicazione, ma sempre, questo anche coi bambini piccoli, l'attacco-fuga, cioè il fatto di essere... in quel momento l'obiettivo non è ragionare su un problema, in quel momento l'obiettivo è prevalere, farti vedere che prevalgo io. Questa cosa qui è destinata a finire. Fatevene una ragione, anche nella natura, prima o poi lo stambecco giovane, a forza di cornate, prendere al posto dello stambecco anziano. Eh, vi rode, lo so, rode pure a me. Però non è questa la modalità, ma è la saggezza. Se lo stambecco anziano è riconosciuto come saggio, come forte moralmente, lo stambecco giovane continuerà ad ascoltarlo. Quindi non fatevi pescare dalla modalità simmetrica della lite, delle urla, degli insulti. E cosa faccio se però mio figlio mi manca di rispetto? Perché l'alternativa è, allora, niente, gli lascio fare tutto quello che vuole. No! Lascio sgonfiare il soufflé, magari togliendomi e dicendo guarda, con te adesso non posso parlare perché sei molto arrabbiato e io non sono disposta a sentire urla o insulti rivolti a me, quindi chiudete lì. Quando la panna si è smontata e il soufflé si è sgonfiato, tornate. Ecco la differenza tra perdere, quindi lasciare il passo e dire fai quello che vuoi, oppure un genitore saggio. Dopo torno e con te, facendo ragionare te però, non ti do le soluzioni precotte, ma ti stuzzico a trovare una soluzione. Questa è la principale differenza di quando sono piccoli, veramente sarebbe bene farlo anche quando sono piccoli, a quando sono adolescenti. Non ti do io la soluzione, non ti dico cosa devi fare, ma mi metto dalla tua parte verso un problema. Facciamo un esempio pratico così ci capiamo, anche perché siamo già a dieci minuti. Voglio assolutamente andare al concerto di Tiziano Ferro, speriamo che ci sia di nuovo, ma ho 39 di febbre e le placche in gola. Cosa tipica? Io ci vado lo stesso, ma tu sei pazzo, non ci vai minimamente, ma dove vai che domani hai 40 di febbre e ti dobbiamo ricoverare in ospedale, ma io lo aspetto da tre anni questo concerto e quindi ci vado lo stesso. Scontro, simmetria. risposta possibile, lascia sgonfiare un attimo la crisi, la crisi ci sta quando ti rendi conto che aspetti un concerto da tre anni e c'hai 39 di febbre, dopodiché provare a allearsi e dire mannaggia, ma porca miseria, ma proprio oggi la febbre a 39, certo che tu volevi andare al concerto adesso essere qua è proprio una pizza allucinante, sembra un incubo, sì mamma sembra un incubo, no ma c'hai ragione, è una cosa assurda. Quindi empatizziamo, descriviamo i sentimenti, descriviamo, penso che tu ti senta super frustrata, penso che tu ti senta veramente incavolata nera, e non dico parolacce per non farmi mettere il bip di youtube, siamo dalla sua parte, e come possiamo fare? Non lo so, cosa potremmo fare per pareggiare questa sfortuna pazzesca? non lo so, prendere altri due concerti per il prossimo pezzo di tour che non avevo, buona idea, e come potremmo fare? Forse potrei rivendere il biglietto di stasera e vedere se riesco a trovare il biglietto per l'ultima data che non avevo preso, ottima idea, siamo stati dalla parte dell'adolescente, non abbiamo ceduto, attenzione, non abbiamo detto va bene, allora vai a sto cavolo di concerto anche con 39 di febbre, anche perché guardate che i ragazzi vogliono essere guidati da noi a fare la cosa giusta, vogliono essere guidati da noi a fare la cosa giusta, ma vogliono pensare di esserci arrivati loro, ok? Quindi diamo fiducia alle loro capacità di ragionamento, alla loro intelligenza, aspettiamo, stuzzichiamo con le domande giuste e facciamogli capire, ultima cosa che vi devo dire, il valore dell'esperienza. Cosa significa questo? Significa che un ragazzo, una ragazza di quell'età ha bisogno di sentirsi in gamba e di sentire che si autodetermina, ok? Va bene, ci sta, se noi lo sappiamo e lo interiorizziamo e lo accettiamo anche, non dobbiamo sentirci messi in discussione, cioè certo ci metteranno in discussione, ma per un loro bisogno, non perché veramente non si fidino di noi, ma noi possiamo, senza ribadisco, fare le lezioni, fare una lezione, sappiatelo, interrompe sempre il contatto, ma magari commentando una cosa che vediamo in tv, una pubblicità sulle droghe, un pezzo di film su Netflix, qualcosa che ci dia lo spunto, mettere giù delle parole, dei ragionamenti, che valorizzino la qualità dell'esperienza, perché questo, la parola esperienza, tutela entrambi, cioè fa capire al ragazzo o alla ragazza che è importante che ascolti la mamma o il papà in certe situazioni, non perché non è capace, perché non è ancora maturo, perché sa ancora di latte, no, no, non è per quello, perché è in gamba, ma adesso scherzo con voi, ma veramente ascoltateli, i ragazzi e le ragazze hanno un mondo dentro, ma un mondo, ma perché la mamma e il papà hanno più anni di esperienza, è come un chirurgo che ha operato tantissime volte, oppure un chirurgo che è alle sue prime operazioni, e non vuol dire che non sia in gamba, non vuol dire che non sia intelligente, non vuol dire che non sia preparato, però gli manca l'esperienza. Il valore dell'esperienza e della saggezza è quello che, insieme al fatto di reggere, quindi un bel respiro, lasciate sgonfiare la panna e poi tornate, no, a riprendere il discorso, ma non a riprenderlo in senso morale, a riprenderlo in senso, ok, adesso che va un po' meglio, provi a trovare una soluzione, se vuoi ti do una mano, è quello che ci farà essere quegli adulti autorevoli di cui loro hanno bisogno tantissimo, non vi fate fregare, cioè il desiderio di allontanamento dell'adolescente è un desiderio di crescita, ma non è un desiderio di rottura del legame, anzi loro hanno sempre bisogno della loro base sicura, della loro torre di controllo, hanno bisogno di sentire che si possono allontanare senza che questo ci faccia andare in ansia, sentire minacciati, eccetera. Per questo dobbiamo mollare un pezzo di controllo, sì, lo so, è dura, una parte del vederli crescere è anche fare un bel respiro e sperare che tutto vada bene e che qualcuno ce la mandi buona, perché non potremo essere sempre ovunque e dappertutto. Ci sarebbero ancora tantissimissime cose da dire, magari ci riserveremo un workshop, perché è un argomento immenso, ma spero che già oggi questo vi sia servito. Ditemi nei commenti quali sono le frasi o i momenti in cui fate scintille con i vostri adolescenti e noi ci vediamo, ci ascoltiamo il prossimo lunedì. Ciao!